Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongior Quindi, mi ha dato un altro video. At the end of the afternoon, il printer è diviso di 1000 pièces all'arrivo del garbantino. Ma io ero in strada perché... ...c'è stato vedere cosa c'era in questo video. Quindi, ero in strada. Le prossime volte inizio ad usare altri strumenti e ogni volta che ho finito di disassemble qualcosa, la mia curiosità è aumentata. E dopo un paio anni, quando inizio ad usare l'internet, il mio PC, ho scoperto un mondo dove altre persone sono usate come me e altre persone usano l'obietto che si disassemble per fare nuove cose interessanti. Queste persone sono creanti e si chiamano DIY. Quindi, prima di tutto, cosa sono DIY e chi sono creanti? DIY è un acronymo che significa fare con te. E' un'idea che ha più potere che una credit card. E i ricordi sono persone che prendono il DIY come un livello e lo applicano ogni giorno in loro vita. Quindi, cosa dobbiamo essere un ricordi? In mio opinione, dobbiamo solo tre cose. Curiosità, idee e creatività. Curiosità è importante per essere serviti a sapere nuove cose. Le idee sono importanti per avere qualcosa per fare. e realizzare in un modo interessante. Ma cosa succede se non abbiamo alcune idee? Non preoccupare, abbiamo l'internet oggi. Ci sono anche molti siti e platform e platform. Da dove puoi portare e share le nostre idee in comunità. Alcuni di loro sono Pinterest e YouTube. Questi sono due platform dove i useri possono share video e foto sui progetti. E altre persone possono realizzare questo progetto in loro. e quindi è una buona forma di share le nostre idee. Ma ora puoi dire, ok, DIY è una reale idea. Ma cosa sull'argento? Non preoccupare. Non preoccupare. Non preoccupare. Non preoccupare. Non preoccupare. Le cose possono essere più piacere da comprare nuove cose. Se seguiamo alcuni strumenti. Questi strumenti sono upcycling, recicling e l'open source world. Upcycling è prendere un nuovo oggetto e modificare per creare nuove cose interessanti. Come in queste foto. Abbiamo alcuni vecchi strumenti. e con un po' pezzi e un po' pezzi e un po' pezzi. Possiamo avere questi strumenti interessanti. Per esempio. Alcuni strumenti, recicling è disassemblero un nuovo oggetto che è bruciato o che non funziona bene. e usano qualcosa per creare altri nuovi progetti. Per esempio. Possiamo vedere un altro computer. Da dove ho avuto questo cd-drive. Da dove ho avuto questo, che è un motore di step. E ho usato questo motore per creare un altro progetto. Questo costa circa 15 dollari. Ho bisogno due di questi motore per creare un altro progetto. Quindi ora ho 30 dollari nel mio valore. Quindi... In questo caso, reciclinge è più barato da un nuovo motore. Il ultimo, ma non più il punto, è l'open source world. The open source world is a sort of hardware and software that are free and are shared on the web. This sentence, said by Marco Banti, who is our founder of Arduino, in my opinion, is the meaning of the open source. Because with the open source, you don't need anyone permission to make something great. So you can use the work of someone else to create your project and to make something great that you can share with your friends. or with other people. And now I want to leave you with a dream. I have a dream. A dream that one day everyone can make with his hands, with his brain, with his ideas and with his hearts full things for the world. Please make this dream true. Please make this dream true. Please make this dream true. Thank you. Thank you. Thank you.